Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con Biancherosso TV Sport. Tutti a Bologna, professore Antonucci vuole salire anche lì sul treno per l'Emilia? Ma della verità, il primo esodo di tifosi baresi fuori dalla regione è stata proprio a Bologna. La Bologna era il 15 di giugno del 1932 e si faceva lo spareggio Bari-Brescia. Come viaggiarono i tifosi del Bari? Quante ore ci volevano all'epoca? Dunque, il treno partì alle 10 di sera del sabato e arrivò alle 10 della mattina. 12 ore appena? Minimo. Ora ce ne vogliono quante? 5-5 e mezza ce ne vogliono, 6 ore al massimo per l'Emilia Bologna. Si può andare anche domani mattina, cioè domenica mattina e arrivare in tempo. Io ricordo anche per la partita che facciamo di spareggio con il Verona, io mi fermai ad Ancona e feci il bagno a Palombina, alla spiaggia di Palombina, e alle 2 presi il treno da Ancona per Bologna, alle 5 cominciò la partita. Senti, purtroppo ci è venuto adesso questo discorso, però sarebbe bello vedere, se tu ce le hai, delle foto di grandi esodi dei tifosi del Bari, no? I tifosi del Bari in trasferta. Sì, ce le ho. Senti, ma come mai i tifosi del Bari amano così tanto andare in trasferta? Perché voglio dire, anche gli altri fanno il tifo. Il barese è amante di fare, non dico le scampagnate, ma addirittura di andare a vedere posti che magari lo distraggono pure. E fanno bene, fanno bene. Io ti devo essere sincero che quasi tutte le trasferte del Bari di un tempo, quando avevo almeno 30, 40, 50, fino a 60 anni e anche a 70, ora cerco di evitare, anche perché mi stanco. Però, anche perché oltretutto c'è il mezzo televisivo che ti fa venire la voglia di vederla in poltrona. Però è sempre bello assistere ad una partita in uno stadio. Ma non solo, ma quando poi si va a Bologna e si mangia le tortelline, si mangia qualcosa di diverso, lo svago oltretutto. È svago, è svago. Se sono 2.500 devo dire che è un altro record. E come ti stavo dicendo, nel 31, nel 31 furono quasi mille ad andare capitanati o cappeggiati, come si dice, da un certo ciccello Papamosca, si chiamava, col bastone. E lui era il, come dire, il Peppino Cusmai Antelitteram, ho reso l'idea, quindi tutti quanti ci andavano. Tant'è vero che quando arrivavamo a Bologna, cioè arrivarono perché io avevo 4 anni allora, quando arrivarono a Bologna i veronesi con i bresciani, facevano il tifo per il Brescia, e ti arrivarono, sono arrivati i saraceni, sono arrivati i saraceni, così dicevano a Bologna. Ma poi c'è un fatto anche particolare di Bologna. Quando c'è stato lo spareggio che noi abbiamo fatto con l'Atalanta, esattamente nel 71, a giugno del 71, io posso dire che il primo derottamento, da un punto di vista quello che succede con gli aerei, è stato fatto a Bologna con i tram. E tutto questo lo faceva un bravissimo studente allora, che oggi è uno dei più affermati commercialisti in Italia, che si chiama esattamente Donato Carone. E lui riuscì a far deviare, non i tram, ma gli autobus della città, per essere dirottati tutti verso lo stadio. Verso lo stadio. Purtroppo che la partita la perdemmo non solo sul campo, ma anche a tavolino. Va bene, insomma, avremo modo di tornare sui grandi esoti dei tifosi. No, veramente. E' un bel tema, perché ci sono immagini… Quella che è stata imponente per me è stata la prima vera, 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 vera massiccia è stata a Napoli nel 1954 col Colleferro e poi la seconda, esattamente il 26, il 24 luglio del 1958 a Roma. Quella fu veramente eccezionale. Ricordo che per la prima volta ho avuto la fortuna di abbracciare, dopo il primo gol di Erba, la splendida Marisa Lasio. Ah, quindi memorabile. Per la prima dell'allenatore. Memorabile. Va bene. Allora facciamo così, visto che siamo un po' in tema di lettere e di risposte, anticipiamo lo spazio delle lettere se vuoi. Sai subito, lo facciamo. E quindi cominciamo a rispondere ai nostri amici da casa. Io sono un gran tifoso di nome Cesare, ti conosce, ha detto che ti conosce e che lui segue due trasmissioni, quando ci sto io e quando ci sta il buon Michele, come si chiama, la mattina il cognome… Salomone, no? No. Chi? Michele si chiama… Ho fatto il presentatore per Telebari per tanti anni, ma… 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 ma come… Vabbè, ora ci arriviamo. Vabbè, vuole essere quante volte… Vabbè, Monteleone, Francesco Monteleone? Francesco Monteleone. Francesco si chiama. È Cesare della Telecom che salutiamo, è un dipendente Telecom che salutiamo, Cesare. Ah sì? Sì, ho capito che… L'ho incontrato perché accompagniamo i bambini a scuola. Un grande tifoso del Bari, grande tifoso del Bari. Vuole sapere quante volte… questa è una domanda che abbiamo anche avuto e risposto in passato… quante volte il Bari ha giocato all'ora di pranzo, ma soprattutto vuole sapere quali sono stati i risultati. Vediamoli, eccole qua. Sono esattamente dieci volte che finora, quindi è l'undicesimo, questo di Bologna, abbiamo vinto cinque volte tre pareggi e due sconfitte. Le sconfitte se non erano sono quella in casa con il Sassuolo, vediamo una a due, e quella dell'anno scorso a Modena, Modena Bari 4 a 0, dove tra l'altro pure in Galana sbagliò un rigore. Devo dire che da quella partita del 4 a 0 è cominciata, direi così, l'expload dell'anno scorso del Bari. Del Bari. Questo è stato veramente… ecco perché, quindi penso che il signor Cesare, come hai detto, è della Telecom, è una persona squisita, gentilissima e oltretutto tifoso del Bari, uno di quei federissimi che praticamente fa piacere incontrare. Ecco, all'ora di pranzo, domani… Vabbè, tradizione favorevole a pranzo, tradizione favorevole a pranzo. Andiamo avanti con le lettere. Poi l'altra lettera è Nicola Ruta, che scrive, chiede se c'è qualche analogia fra Mangia e Nicola. Beh, io della verità ce ne potrei elencare diversi, ma quella più significativa è che Mangia ha cominciato la sua prima partita vincendo con due gol, uno di Caputo e l'altro di Galano. Ah, è vero, carina sta… Mentre, lo stesso per quanto riguarda Nicola, due gol del Bari, due a uno con il Trapani e i gol di chi sono? Di Caputo e di Galano. Hanno sentito invertito, ha segnato prima Galano… Sì, vabbè, questo… Però… Beh, questa è una bella cosa, lo sai che non c'è… Il personaggio, l'autore, il canoniere, sono sempre quei due. Non ce l'ho pensato. È un fatto molto di curiosità, ecco. Non ce l'ho pensato. Poi l'altra, come eravamo messi, questo è importante perché lo vorrei anche discutere con te, come eravamo messi, chiede Peppino Abbaticcianni, nei precedenti tre torni di B, dopo la retrocessione, e cioè esattamente al termine della quindicesima giornata, cioè alla vigilia della sedicesima, che è quella di domani e di domenica. Quindi noi abbiamo che con Torrente noi tenevamo 21 punti dopo 15 partite e non erano stati ancora combinati i punti di penalizzazione. Infatti, guarda caso, proprio dalla sedicesima incominciò la serie dei sei punti di penalizzazione che dovete scontare Torrente, però alla fine ci troviamo con 50 punti effettivi, ma in effetti, cioè 50 punti in classifica, ma effettivi erano 56. Poi abbiamo il secondo anno di Torrente, che è stata un'impresa eccezionale per me, quella di avere 22 punti dopo 15 giornate, però in effetti erano 22 meno 7. Alla fine troviamo che praticamente erano 60 punti effettivi e 53 quelli che venivano in classifica. L'anno scorso, oggi come oggi, cioè alla quindicesima, avevamo esattamente 14 punti, dico bene, no? 17 sul campo e 14 in classifica, per il meno 3. Ora invece ce ne abbiamo 14 e vedremo che cosa andiamo avanti. 19, 19. Saremo a vedere, quindi penso di aver esattito abbastanza correttamente, velocemente, anche quest'altra richiesta. Allora Gianni, tra poco, immagino ci proietteremo verso la partita, c'è anche la conferenza stampa di Stevanovic, chiedo alla regia di comunicare con me dopo la pausa, durante la pausa pubblicitaria, perché ho una comunicazione di servizio, tra poco.